Antonio Criniti, siamo qui allo stadio Antonio Leo di Soveria Mannelli per il Memorial Angelo Colosimo e Sandro Spina. Sì, abbiamo accettato questo invito perché è un feudo catanzarese, Soveria Mannelli è storicamente una delle società più antiche, ci ritenevamo a fare questo match che consolidava anche questo partnership a livello di tifoserie, quindi questa per noi è stata un'occasione anche per ritrovarci le vecchie gole del Catanzaro. Grazie. Grazie.